Ciao a tutti ragazzi e bentornati, questo è un video registrato a 1080p a 60fps dal nuovo BQ Aquaris X L'ho ricevuto da qualche giorno, lo sto testando davvero tanto, stressandolo anche Facciamo due passi per capire la stabilizzazione di questa parte fotografica Un dispositivo che mi sta dando un sacco di soddisfazioni Innanzitutto perché è velocissimo, Android Stock 7.1.1 Guardate l'adattamento anche al fuoco di questa parte fotografica Velocissimo, non so come l'audio ragazzi, io lo devo ancora sentire al PC Guardate anche l'adattamento qui sulle foglie, guardate con quale velocità riesce a fare il fuoco A cambiare anche le luci da zone d'ombra come quelle dietro a quest'albero Rispetto al mio giardino, facciamo anche due passi così controlliamo la stabilizzazione Un mega contro sole, oggi ragazzi è una giornata addirittura fantastica, quindi molto bene Facciamo anche il classico pan Vediamo come si comporta, anche in questo caso mi sembra davvero molto molto bene Facciamo ancora due passi, uno zoom verso questo caseggiato Poi vi saluto che vado a mangiare e nel pomeriggio torno al lavoro Eccoci qua, questo è uno zoom, credo arriviamo almeno a 8x, guardate qua Mamma mia ragazzi che razza di zoom che ha questo dispositivo, ovviamente perdiamo in qualità ma è davvero tantissimo Molto bene, si torna indietro di nuovo Guardate quanto zoom ragazzi, bene Torniamo Altri due passi, di nuovo per controllare la stabilizzazione A display mi sembra molto valida E io vi saluto e ci vediamo ovviamente tra qualche giorno per la recensione completa di questo bellissimo dispositivo Ah, per la cronaca ha vinto sicuramente la parte estetica piace a tutte le donne a cui ho fatto vedere Ciao ciao